Perfetto, ho fatto una modifica nel mondo che ti potrebbe piacere tantissimo Ok Tieniti pronta Allora devi soltanto ammazzare degli zombie normalissimi che sono qua Sono leggermente più forti del solito Ok Ma hanno una cosa particolare Guarda Stef, aspetta Me l'ha messo nell'inventario a noi qua, guarda Mi ha dato un diamante, ma non danno carne e marcia agli zombie, scusa Allora, al 40% di possibilità ti dà un diamante Al 10% di possibilità te ne dà 3 Al 2% di possibilità te ne dà 10 È rarissimo, ovviamente Da ora in poi gli zombie ci daranno i diamanti e ci renderanno ricchi, Fere E ragazzi, come va? Io sono Fere, Nicky E sono Stef, perché se giochiamo a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft Stef, spiegaci un po' cosa andremo a fare oggi Perché abbiamo visto questi zombie strani, ma che servono, che dobbiamo fare Beh, allora, prima di tutto a che servono zombie che invece che darti carne e marcia ti dà diamanti Questi ti dà Esatto, esatto E a Fere piacciono tantissimo i diamanti Comunque è molto semplice quello che faremo Faremo una sfida a chi ammazza più zombie Per ottenere più diamanti Quindi non è tanto il numero di zombie che ammazzerai Ma sarà quanti diamanti riuscirei ad ottenere ammazzando zombie quest'oggi Va bene, va bene, va bene È una sfida particolare, perché? Perché magari io killo 80 zombie Tu ne killi 65 Ma hai più fortuna nei diamanti che trovi E vinci la sfida Quindi sarà molto divertente e molto interessante E poi col fatto che non bruciano di giorno E che sono un bel po' più forti del solito Diciamo che non sarà neanche una sfida molto facile Infatti, Fere, preparati con lo scudo Te lo garantisco, ne hai bisogno Da pronta Deciditi un punto da cui iniziare Vai prima tu, Steph Io mi adeguo Scegli tu Io parto da qua Credo che dalla sinistra non mi possano arrivare Come stai andando? Ciao bello zombie Ok Ti ho perso, eh Ti attacco Paro Ti attacco Paro Ti attacco Eh sì, così Lo devastiamo Ok, iniziate la sfida, Fere Sì, credo di sì Ok, andiamo Che ti è successo? Ricordi quando dicevo che è anche una sfida di fortuna? Mhm Se Steph trova tre diamanti al primo zombie No, 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 Steph, no Ah, scusami, quattro Tre uno e uno l'altro Sono a quattro diamanti avendo killato due zombie, Fere Bravo, bravo, Steph Mi dispiace tantissimo Allora, venite qua, disgraziati, due Mmm, due È un po' complicato dato che siete fortissimi Poi proprio in mezzo agli alberi dovevo combattere, davvero? È l'idea migliore che potevo avere quest'oggi Ok, uno sta andando via Vieni qua, vieni qua, vieni qua Ma quanto sono fortunato Allora, ti informo che io con uno Ahà Ne ho trovati quattro Quattro con uno? Sì, 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 sì Ma porca miseria È un bel giorno oggi Ma chi è a sette? Ma chi è a sette? Ma forse è Steph Ma forse è Steph che è già arrivato a sette Eh sì, è proprio lui Questo me ne ha droppati? Eh, sono arrivato a sette anche io Quindi ben tre Ma porca miseria Ben tre Ma porca miseria Allora, tengo a distanza Mmm Ok, comunque stiamo avendo abbastanza fortuna, devo dire Sì, sì, sì Mai capitato a nessuno la botta da dieci Ma quella è il due per cento Quindi comunque È molto difficile Teoricamente dovrebbe capitarti una volta ogni cinquanta Che succede? Ne ho grati troppi Ne ho grati Io cavolo, devo scappare, non me ne ero accorta Scappo, scappo Corro Corro via Scappo, scappo Sarebbe il villaggio, via il villaggio Sì, ci sta andando Ci sta andando Mamma mia, ho girato un angolo Sì, sì, sì Non mi raccorta che ne avevo altri tre addosso No, no, perché dobbiamo aspettare la notte La notte diventano ancora più forti questi così che ho creato Quindi conviene aspettare che passi la prima notte Poi più avanti ci possiamo ambientare e combattere anche di notte Adesso come siamo messi? Sette pari? Eh sì, io ne ho sette Anche io Vieni qua Vieni qua I miei sono più belli Guardali Guardali Non credo, Stef Non credo Sono più belli i miei Finalmente giorno È ora di tornare con la sfida Allora, tac Vieni qua Vieni qua, bello zombettino Ti spacco la faccia Oh no, ne sono arrivando altri Ok 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 Spammiamo con l'arco Ok, questo è morto Non mi ha troppato Uh, un altro Uno Quota 8 8? 8 a 7 Ok, mi stanno attaccando in due Schiatta Passo Ok Ma dai, due di fila senza drop Sta tornando la sfiga di Stef Schiatta Bello zombettino Da 8 a 12, Stef Però la sto vincendo io E io di nuovo 0 E io di nuovo 0 Sono rimasto a 7 Aiuto, aiuto E a più 5 Muori Muori, non ho più tempo a perdere Niente però Ok, ne ho trovato uno Ok, sono ad 8 Quindi 8 a 12 Sì Ok, perfetto Allora, venite qua Venite qua Che non ho più paura di voi Cioè lì devo agrare, scappare Agrare, scappare Sì, sì, sì È un disastro No, vabbè, ma questi che fanno? Le tattiche per attaccarmi a due lati Ok, quello però se ne stava andando Ok Ok Pariamo un po' Perfetto Schiatta Io non sono abituato a usare lo scudo Avanti e indietro in tutto il villaggio L'importante è che li avanti Perché quando ne agri troppi Poi almeno ti rimangono quell'1 o 2 Che riesci a fronteggiarti Però quando ne hai tanti è davvero difficile Ok, uno è morto e l'altro è morto 2, un diamante Quindi sono a 9 Tu sei rimasta a 12 Sì, 12 Questo niente Sto già finendo le frecce 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E muori Devi dire tutte, Steph Ma morite, porca Miserio Mori Ok, uno è morto Niente Non sto più droppando Ok, ne ho trovato un altro Però mi sono lamentato Nench'io, nench'io, 0, 0 Cioè di solito ti avviso Ma questa volta mi sta andando proprio male Sono a 10 E tu sei a 12 12, sempre 12 Perfetto, perfetto Steph sta recuperando Uno alla volta Avrei preferito avere una bottola e 3 o da 4 Però mi devo comunque accontentare Eh, vabbè, se ci sia contenta dai Esatto Ci sia contenta Ok Mamma mia quanto siete forti Uh Uh Dai, Mazzaro Uno è morto, niente Siamo vicini, no Steph, questa è la mia zona Scusa, eh Non ti permettere Ok, me ne vado Fai la tua, vieni via Me ne vado, me ne vado Scusami Poi li sto facendo io da due ore Infatti sono quasi morti E per quello che ne trovi pochi 10 a 12 per un motivo a fare Perché Steph non si arrende Steph recupera le sfide Eh, ma anch'io Non è che mi sto arrendendo Non trovo nulla Uh, questo mi ha dato qualcosa Solo uno però, vabbè Ok Quindi si è a 13 Sì Ok, ne ho trovato uno anche io Sono a 11 Ti sta alle calcagna Rimango Non credo Soltanto a due di differenza Vieni qua Io sto andando ad arco, Steph Picchiano davvero, davvero tanto Sto cercando di fronteggiarmi il più lontano possibile Uh, questo ha droppato Quanto è? Uno Vabbè, 14 Meno male, mi stavo già preoccupando 14 Quindi vantaggio di 3 Dai, droppa Dammi una botta da 3 Riaccendi la sfida Disgraziati che sono Porca miseria Mi stanno facendo arrabbiare Io voglio quello da 10 Devo trovarlo Eh, prima o poi qualcuno lo trova Devo trovarlo A furia di sterminare i zombie Qualcuno, prima o poi, lo trova Allora Pariamo un hit E colpiamo Pariamo un hit E colpiamo Dai, sto prendendo le foglie Stiamo scherzando Paro Porca miseria Mi hanno finito Mi hanno fatto finire in acqua Ok, però Lo zombie in acqua è abbastanza scarso Ho fatto anche questo Quanti? 17 17 Sì, 17, Steph Aiuto Mi stanno per uccidere però Io mi sono distratto A mezzo secondo Consolini Cioè, mezzo secondo Mi sono distratto E questa qua è andata In vantaggio di 6 Io sono ancora ad 11 Mi dispiace Oggi è la mia giornata Fortunata Sì, evidentemente Non ne ho mai Però oggi mi sta andando bene Mori Quanto ci mettono? Niente Non ci credo Infatti troppo forti Però cioè, tu sei pazzo Ma non li potevi fare semplici Così tutti li troviamo No, perché ho pensato Diamanti e tutti eravamo felici Se danno i diamanti Al posto da carne e marcia Almeno devo essere forti Ho ben pensato questa cosa Tutta colpa tua Guarda Ah beh, ne ho droppato 1 Dopo che ne ho chilato 5 Grazie Non darmi la botta da 10 No, dammene 1 Quello è quasi morto Ok, è morto Droppato 1 Quindi vado a 13 Droppo anche tu Dai davvero Niente Ok Niente Cioè, sta troppato Niente, niente, niente Sono a 20, Steph 20 Sì, 20 Ma perché ogni volta che 20 Che parli si è aumentata di un botto Cioè, ma ne hai trovato botte da 3 Sì, sto trovando solo botte da 3 Molto piacere, grazie Oh, finalmente anch'io da 3 16 Tu sei a 20 20 Dai, non è troppo la distanza Cioè, se ti va bene tipo becchi quello da 10 Ce la puoi comunque fare Eh, ma io lo becco È come Lo sappiamo entrambi che lo troverò io quello Lo sappiamo entrambi Lo sei tu E lo so io Quindi prendi un bel vantaggio Perché altrimenti Steph vince con quei 10 Sì, sì, sì Vieni qua Più kill faccio Più sono veloce Più comunque vado oltre alla fortuna Quindi devo semplicemente diventare un'arma da guerra Ok, 17 E tu sei ancora 20? 21 21 Che miseria Pensavo di aver recuperato almeno un diamante 22 Eh, vabbè Eh, vabbè Io me ne vado Ogni volta che me lo chiedi io aumento Quindi ti conviene chiedermelo abbastanza spesso Perché così poi magari trovo anche quello da 10 Eh, sì, sì Sei molto simpatica Lo so, grazie No No, perché non sto più Che ti succede? Che qua c'è l'erbaccia E io sono talmente scarso da colpire l'erbaccia Ah, capito anche a me Sto rischiando di morire Sto rischiando di morire Devo mangiare un attimino A me sono rimasti 13 di carne No, vabbè Io ne ho ancora tanta Ne ho ancora tanta Però è tosta È tosta Anche io mi devo fermare spesso per mangiare Spesso per riprendere l'energia È difficilissimo Mori Oltretutto le frecce le sto totalmente esaurendo E infatti sto sperando che le finisci presto Perché io ne sto usando Ah, no Pensavo di averne usato molte meno Ne ho solo 14 Ah A quanto sei? 27 No, va bene È possibile Cioè a più 8 Anche se trovo quello da 10 Va da un malapena in vantaggio in questo momento Ma qualcuno è morto nel mentre? No A quanti sei? 28 E io 25 Ho recuperato Brutto di scuola Eh, perché andare a recuperare tutto l'urto Eh, ho recuperato tutte le mie cose Poi tutti i diamanti Mica li potevo lasciare lì, scusa Ci vuole un po' di tempo Lo so Però ho detto Sono in una zona terribile Se ne prendo uno Di conseguenza ne prendo tanti Sì, no, no L'ho vista anche io Quella zona è un casino Infatti sono riuscito ad andare in un lato E devo dire che qua mi sto trovando abbastanza bene L'unico problema è che sto finendo la carne Cioè non so neanche come mi nutri Ah beh, la carne di zombie Ah no, non la danno No, ti danno i diamanti Ma era che tu non voglia mangiare i diamanti Maggio i diamanti Vai, vai, mangio i diamanti Sì Vieni, allora Voi che siete in tre Uno alla volta, per favore Su Abbiamo sbelle per tutti Gratis Steph ve le offre Dalla mattina alla sera Tutte le ore Sintonizzatevi No No No, Steph Bene, scappa Oh, l'ho notto Non mi ero accorto che stava arrivando la notte Scappa via, scappa via, scappa via Scappa via, scappa via Scappa via, scappa via Ci rivediamo al villaggio Fai l'unico posto che siamo sicuri Una follia Continua a correre Un mio dio Non so se riuscirò a tornare Credo di no, Steph Credo di no Aiuto Forse ce la faccio Oh, mamma mia, Steph Ho bisogno di mangiare? Oh, mamma mia La notte è il momento più terribile Cioè Perché gli hai fatti che tornano in vita di notte? Boh, sembrava divertente Non è divertente, accidenti a te Mi sono nascosta nel villaggio Sto cercando di mangiare senza farmi vedere da nessuno È una tristezza incredibile Quanti ne hai? 29 Sai che abbiamo solo due di differenza? Devi morire anche tu per pareggiare, Steph Muori Beh, se muoio tenendo 27 Vago molto come zombie Penso io Direi Che adesso aspettiamo il giorno Facciamo la maratona finale proprio di quella È super rapide Sì, sì, sì Quindi è una roba più o meno Quando io finirò le quattro pagnotte Sarà scaduto il tempo Ok Sei due di vantaggio Vediamo chi avrà più fortuna Ok, va bene Via, 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 via Corri, Steph Corri, Steph Last day, Steph Cosa? Last day Lo so L'ultimo giorno Ma neanche tutto il giorno Perché durerà poco questa sfida Venite qua Venite qua Sono una macchina No, quattro no Quattro no Ho vista la scena Quattro no Allora, qua c'è uno zombie Che secondo me è uno zombie normale Infatti Che cavolo ci fai? Beh, almeno muore facilmente quello Non so Da dove era uscito Ma mi è esploso un creeper in testa Come? Vabbè, qualche rimasuglio della notte, Steph Ok Uh, 31 Sono in vantaggio? Sì, io non riesco a trovare un punto da cui farli Perché me ne arrivano addosso 50 Non posso fare tutti questi 32 Aspetta questi Vai Io sto facendo piano piano quei quattro che mi stavano assalendo Ok Muori 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 Ok, niente loot Niente loot No, 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 troppi, troppi Difficile Oh, cazzo Una volta Devo ricordarmi dove stavo lavorando prima a livello di zona Eh, io più o meno ero in questa Però ne avevo uccisi tanti Quindi avevo la strada abbastanza spianata Capisci? Invece ora Ci sono di nuovo tutti Quindi non è che sia una bella cosa Miseria No, no, Steph non puoi morire Non puoi morire Non puoi Uh Ok Ok, uno è morto Questo Grazie Muori Ok 33 Quanto sei? 30 Ok La remuntada La remuntada finale Signori, nessuno se l'aspettava Nessuno se l'aspettava Oh, fa un altro 31 Oh, no Non ci provare Vabbè, non ci provare Non è che ci provo Se li trovi 3 o 4 adesso mi arrabbio, eh Mi arrabbio, te lo giuro Ok Te lo giuro Questi quanti sono? 32 36 Ma no, dai, non è giusto Ti ho trovati, io ho ancora una pagnotta, eh Ho ancora una pagnotta di cibo Ok, io ancora non ho mangiato, quindi Eh, mi sa che è finita No, non mangiare, non è finita, non mangiare 39 39 Io ne ho 33 Ma non riesco a prendere l'ultimo perché mi stanno inseguendo gli zombie, quindi 33 43 a 34 Fai schifo Cioè, all'improvviso, una fortuna incredibile Perché ti sei lamentato, quando ti lamenti le cose ti vanno sempre bene, perché sei sempre il solito Basta, me ne vado via, mi butto nel posto E ti lasci, detti a te, lasciami in pace Ragazzi, se ti lasci, se ti lasci, se ti lasci, se ti lasci mi like E se è la prima volta che vedete il nostro video potete consigliare di iscrivervi per non perdere gli altri episodi Ciao, alla prossima Ciao, ciao